ecco cari amici del nostro mitico canale del di marco in mongolia oggi c'è una bella nevicata ho fatto una passeggiatina qui in montagna siamo vicinissimi alla capitale saranno neanche 8 chilometri 8 chilometri dal centro e 10 chilometri dal centro c'è questa montagna qui vicino e è molto frequentata dai cittadini di ulambadar e fanno delle belle passeggiate si sale su c'è un percorso insomma che continua va avanti e sta facendo veramente una bella nevicatina oggi temperatura attorno ai meno 5 meno 4 non fa assolutamente freddo e si sta molto molto bene vedete qui ci sono delle bandiere la preghiera buddista per la preghiera buddista vedete e sta facendo una gran bella nevicata bene io vi saluto alla prossima ciao ciao